Cari amici e cari amiche, so che non siete capre ma anime consapevoli. Mi auguro che qualche capra o ameba, se preferite, approdi a questo video e venga ad insultare, perché so che chi insulta a me insulta a se stesso o se stessa, solo perché vado ad intaccare il loro credo sull'indottrinamento ricevuto dal sistema di controllo e comando in atto. Negli ultimi giorni vi ho documentato di quello che fanno, promuovono e decidono i relatori del World Economic Forum che si chiude domani 20 gennaio 2023 nei due video Il portale del male per l'inferno è in atto in Svizzera e John Carrey è il discorso sul piano quasi extraterrestre. La mia domanda è semplice. Per quale motivo a parlare delle emissioni CO2 deve essere un politicante e non uno scienziato? E la gente comune che vive e popola il meraviglioso regno piano che ci ospita che ha scelto di andare a Davos e decidere per la gente comune? No. Hanno scelto le entità dei vari governi globali per continuare la farsa della globalità del falso globo. Vi mostro parte del video del 2016 a cui accedete attraverso la pagina web Indice Alfabetico dal sito www.tinelli.eu sotto la voce riscaldamento globale è una farsa. Grazie Senatore Koons gradirei tornare brevemente indietro al signor Mayer. Nella vostra testimonianza scritta avete detto che la scienza è dietro al cambiamento climatico ed i suoi effetti riguardano la minoranza della comunità ma non c'è bisogno di discutere. Io sono curioso di sapere se il Club Sierra ha queste frequenti abitudini di dichiarare che alcune aree della scienza non hanno bisogno di essere discute discusse sulle considerazioni di quello che l'evidenza di dati dimostrano. Se confida sull'evidenza di dati lei sa che la scienza è la preponderanza dell'evidenza e si trovano là. Ma questa è una cosa diversa rispetto a dire che non può essere discuta, discussa. In una domanda il Club Sierra ha dichiarato che questo argomento scientifico è stato risolto e che non possono esserci dibattiti. Loro presuppongono che le evidenze preponderanti della scienza sono a posto e non c'è alcun motivo senatore per discutere sui dati. Non possiamo discutere nulla. Ma lei sa e ha notato che anche la parola preponderante dell'evidenza ha avuto l'intervento di parecchi avvocati per molti anni il che significa il 51% almeno il 51% è quello che significa preponderante. Voglio chiedere per esempio se si vuole finire il dibattito lei non vuole dedicarsi ai fatti come è possibile non affrontare il discorso che negli ultimi 18 anni i dati forniti dai satelliti non dimostrano alcun effettivo riscaldamento? Signore, io devo fare affidamento all'Unione degli Scienziati Interessati e devo fare affidamento nuovamente sulle nostre evidenze non ufficiali ma i dati si trovano là. È corretto che i dati dei satelliti da 18 anni dimostrano che non esiste un riscaldamento significativo? No. E perché non è corretto? Secondo i nostri esperti è stato rifiutato molto tempo fa e non è più disponibile per un dibattito scientifico. sono curioso vorrei capire trovo questo molto interessante che quando chiese al presidente del Sierra Club quanto i satelliti dimostravano riguardo al riscaldamento apparentemente ha fatto affidamento allo staff e la cosa sul riscaldamento la cosa bella sui dati dei satelliti è che si tratta di numeri oggettivi corretto e i numeri degli ultimi 18 anni è per lei familiare con la frase stallo? La risposta è sì ed essenzialmente restiamo nella nostra posizione e lei sta dicendo che è familiare con lo stallo e che cosa si riferisce a parola stallo mi scusi ma credevo che per lei fosse familiare questo termine pertanto chiedevo a che cosa si riferisce essenzialmente c'è un lento riscaldamento globale da 40 anni signore da 40 anni non è che il termine allarmistico del riscaldamento globale è stato usato per giustificare l'inconveniente verità per usare la parola la frase popolarizzata dell'ex presidente Al Gore che i satelliti negli ultimi 18 anni non hanno mostrato alcun significante riscaldamento globale gli allarmisti del riscaldamento hanno chiamato questo stallo perché i modelli dei computer dicono che non esiste alcun drammatico riscaldamento e gli satelliti attuali rivelano misurazioni che non mostrano alcun significante al riscaldamento ma il senatore il 97% degli scienziati concludono in accordo che esiste un riscaldamento globale l'impatto antropogenico il problema con questa statistica di cui si è parlato molto è che si basa su studi finti di inoltre la vostra risposta indica il vostro risponso è abbastanza impressionante e sto chiedendo sulla scienza e sull'evidenza dei dati attuali abbiamo i satelliti che misurano a temperature e questo dovrebbe essere rilevante ma la vostra risposta è stata non prestate attenzione alle linee chiare ed ai numeri che mostrano i satelliti ascoltate invece gli scienziati che ricevono enormi sussidi che ci raccontano che non dobbiamo discutere la scienza signore signore concordo con il 97% su quello che ha deciso il mondo scientifico nei riguardi del riscaldamento globale con effetti antropogenici dell'umanità nei riguardi del clima ma signore può rispondere alla domanda se la posizione del club Sierra è in grado di testimoniare che la terra si sta cuocendo e riscaldando proprio adesso e questa è la posizione del club Sierra la temperatura globale sta aumentando signore quindi si presume che il club Sierra farà una emissione pubblica di ritrazione una volta confrontati i fatti dove i dati sono precisi nel descrivere che negli ultimi 18 anni non ci sono stati significativi riscaldamenti e pertanto per quale motivo gli allarmisti del riscaldamento globale hanno inventato la parola stallo per spiegare quello che chiamano lo stallo del riscaldamento globale visto che i dati dimostrano che quello che avete detto ovvero che la terra sta cuocendo e si sta riscaldando non è sostenuto dai dati resto in accordo con il 97% degli scienziati che assolutamente dicono l'opposto signore quindi se i dati sono contrari rispetto alla testimonianza del club Sierra dovranno ritirarli signore noi concordiamo con il 97% del consorso scientifico nei confronti del riscaldamento globale vorrei ripetere un momento desidero ripetere nuovamente la domanda e ricevere una risposta i dati sono contrari alla vostra testimonianza il club Sierra farà una ritrazione noi siamo d'accordo con il 97% degli scienziati che credono sull'impatto antropogenico dell'umanità nei riguardi del riscaldamento globale è vero questo significa che non vuole rispondere alla mia domanda noi siamo d'accordo con le evidenze preponderanti della scienza e del 97% e se mi chiede del 3% o del 97% io no no non sto chiedendo sull'indagine fra gli scienziati sto chiedendo sull'eggettività dei dati dei numeri gli scienziati fanno affidamento sui loro dati oggettivi e delle loro analisi e del 97% sono d'accordo e concludono che il riscaldamento globale è verosimilmente effettivo Mr. Meyer trovo questo impressionante per la pubblica organizzazione politica la pretesa di focalizzare esclusivamente il problema ambientale dove non si vuole dire a questa commissione che potrebbe fare una ritrazione qualora il vostro testimone fosse oggettivamente falso secondo i dati scientifici questo minerebbe qualsiasi credibilità di qualsiasi organizzazione se lei persiste nella sua posizione politica indipendentemente da quello che dice la scienza indipendentemente dai fatti indipendentemente dalle evidenze indipendentemente dai dati e che non ha consistenza suggerisco sul metodo politico signore lei può prendere quello che vuole tutti i dati che desidera ma io concordo con il 97% dei licenziati dove dicono che il riscaldamento globale è un fatto chiuso grazie signori voglio solo farvi osservare che abbiamo un'ampia rappresentanza ed un gruppo qualificato di persone che sono arrivate qui per parlare su una regolamentazione sull'impatto di una minoranza della comunità non voglio parlare ovviamente del club sierra ma è mia speranza ed aspettativa che se segue questa linea d'inchiesta nei loro confronti saranno contenti di questo ma la mia ipotesi è che bisogna focalizzarsi sul soggetto dell'udienza sono ovviamente d'accordo con il senatore consa voglio far notare che il senhor maier nelle testimonianze scritte nelle testimonianze orali si focalizza su parti significative dell'amministrazione Obama e le nuove regolamentazioni del riscaldamento globale che hanno un costo superiore a 10 milioni di posti di lavoro con imposizione di costi per i consumatori americani e qui si discute sul supporto dei dati che causano a milioni di americani di perdere il loro lavoro inclusi afroamericani dispanici ed io faccio pressione sui dati di cui si è testimoniato e voglio far notare che non è solo rilevante per il testimone ma è anche stato è uno stato sull'intero soggetto del testimone e adesso sembra che il testimone non si basi sui dati o sulle evidenze e non è preparato per discutere dati o evidenze oltre ad asserire su come dobbiamo lavorare con questo voglio ringraziare i testimoni di essere qui grazie per esservi uniti a noi continuiamo a tenere l'udienza registrata l'udienza per i 5 argomenti supplementari dei prossimi 5 giorni che si chiuderà l'attività martedì 13 ottobre 2015 grazie veramente a tutti i testimoni l'udienza è aggiornata molti di voi sono a conoscenza di quante volte hanno manomesso e stanno manomettendo le traduzioni della Bibbia semplicemente interpretando sempre attraverso indice alfabetico potete documentarvi di questo sotto le varie voci versetti nella descrizione vi lascio il link della pagina cuore dove ho semplicemente raccolto alcune delle molte voci dove sulla Bibbia interlineare si legge il mio cuore Alev Sheli ma che addirittura in alcune traduzioni è stata rimossa completamente come in questo caso sulla traduzione del nuovo mondo delle sacre scritture vi leggo solo uno dei versetti il 5 del capitolo 20 della Genesi è stato lui a dirmi è mia sorella e anche lei ha detto è mio fratello ho agito in buona fede e innocentemente questa è una traduzione errata manca completamente la parola cuore ho fatto questo nell'integrità del mio cuore e con le mani innocenti e c'è anche sull'interlineare Alev Sheli so che direte e che c'entra tutto questo semplice ho deciso anch'io di manomettere la scrittura fatta dall'uomo chiamata Bibbia dove al posto del termine signore interpreto verità Geremia 20 dal versetto 7 all'11 mi hai seduto verità e io mi sono lasciato sedurre e mi hai fatto forza e hai prevalso sono diventato oggetto di scherno ogni giorno ognuno ognuno si fa beffe di me quando parlo devo gridare devo proclamare violenza oppressione così la parola della verità è diventata per me motivo di obbrobrio di scherno ogni giorno mi dicevo non penserò più a lei non parlerò più in suo nome ma nel mio cuore c'era un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa mi sforzavo di contenerlo ma non potevo sentivo le insinuazioni di molti terrore all'intorno denunciatelo e lo denunceremo tutti i miei amici spiavano la mia caduta forse si lascerà trarre in inganno così noi prevarremo su di lui ci prenderemo la nostra vendetta ma la verità è al mio fianco come un prode valoroso per questo i miei persecutori cadranno e non potranno prevalere saranno molto confusi perché non riusciranno la loro vergogna sarà eterna e incancellabile Dino